Siamo di cultura, ma una cultura che coinvolgerà ovviamente visitatori, turismo, qualcosa che va oltre la mera mostra in sé, con due servizi, la prima, come dicevamo, la mostra di Steve McInerney, che inaugurerà praticamente il 2024 culturale a Pisa. Una nuova e prestigiosa mostra dal primo giorno del nuovo anno, sino a tutto il 7 aprile prossimo, andrà in scena a Pisa, presso gli arsenali repubblicani, quella dedicata alle celebri fotografie di Steve McInerney, fotografo di guerra statunitense, che ha segnato con i suoi scatti il corso di tanti eventi importanti. A se ora arriva un'altra mostra prestigiosa in un periodo, direi, d'oro per la città di Pisa, per quanto riguarda le mostre offerte ai visitatori. Steve McInerney è famosissimo per i tipi umani che ha ritratto nella sua lunga carriera, in particolare le foto realizzate in scenari di guerra. È estremamente interessante la biografia di un fotografo che ha documentato quando non era possibile, perché non eravamo ancora nell'epoca dei social e della comunicazione visiva così immediata, è riuscito a documentare situazioni che altrimenti venivano descritte solo a parole. Si tratta di una mostra eccezionale che richiamerà a Pisa tantissimi turisti da fuori, ma speriamo che anche i pisani e gli abitanti delle zone limitrofe riescano a venire a vedere la mostra perché è un'occasione imperdibile. Sì, è la mostra Icons di Steve McInerney, che è la mostra che raggruppa tutte le fotografie più importanti di questo fotografo straordinario, una mostra che normalmente ha un grandissimo successo di pubblico. Steve McInerney è particolarmente amato da tutti e qui si ritrovano proprio tutte le sue fotografie più belle.